Si torna a parlare di sanità e servizi annessi nel Vallo di Diano, dove denunciano gli attivisti del Meetup No all'indifferenza. Se hai la fortuna di invecchiare, ma in età avanzata ti succede di dover ricorrere ai servizi dell'ASL e aver bisogno di assistenza domiciliare, allora è meglio accendere un cero e sperare in un miracolo. Succede, raccontano gli attivisti di Sassano, che un paziente del posto, anziano, operato a seguito di una frattura al femore, si è dimesso dall'ospedale di Polle, si è lasciato senza nessun tipo di assistenza. A casa, con valori ematici compromessi e piaghe da decupito, ancora oggi, a più di un mese dalle precipitose dimissioni, si trova senza nessun tipo di aiuto da parte del sistema sanitario pubblico, nonostante la richiesta di attivazione dell'assistenza domiciliare integrata all'ASL di Sala Consilina. Un servizio che dovrebbe garantire ai pazienti non autonomi un insieme di prestazioni mediche, infermeristiche, riabilitative e socioassistenziali a domicilio. Dovrebbe consentire all'ammalato di accorciare i tempi di recupero, anche in attesa della riabilitazione, e magari dovrebbe essere richiesto e programmato dallo stesso ospedale, prima delle avventate dimissioni, ad alto rischio del malato o dal medico curante, prima ancora che dai familiari, dopo una via crucis in giro per uffici. Ma ad oltre un mese dall'intervento chirurgico dell'assistenza domiciliare integrata non vi è alcuna traccia e l'intervento coordinato di più figure professionali impegnate nel ridare autonomia e dignità di una persona anziana è una mera illusione. Nel Vallo di Viano il diritto alla salute e alla dignità viene continuamente negato, riassumono gli attivisti, mortificato da un servizio sanitario pessimo, infiltrato da mercanti alla guido tersilio, umiliato da burocrati incapaci e gestito da politicanti che l'hanno trasformato in terreno di caccia per il loro consenso. Un territorio dove è complicato nascere ma ancora di più sperare di essere curati. A Osphichiamo concludono una seria riflessione sull'accaduto da parte dei responsabili affinché questi episodi non abbiano a ripetersi e soprattutto che il diritto alla salute sia considerato come tale e non un favore.